ecco le belle sorridenti giovani giovani insomma basta giovani no sono giovani sono giovani ve le presento francesca 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 viene da roma poi c'è ludovica romana anche lei romana anche lei dall'altra parte c'è laura laura che tu vieni da provincia di varese però la mamma è svedese siciliano c'è un insieme e poi c'è eleonora che viene dalla provincia di firenze da borgo san lorenzo uno di vostro gradimento direi che il primo esame è superato entriamo nel vivo della gara con i nostri concorrenti prego il quarto anno di studenza ben arrivata ciao carlo sono maria laura vengo da capa dei tirreni in provincia di salerno ho 22 anni e da grande che vuoi fare voglio fare commissario di polizia mi è nata questa passione vedendo le fiction da piccolina e poi da grande perché mi piace ovviamente hai capito che può essere la tua la tua strada mi piace veramente a dinamica vedo che ti sei fidanzata giovanissima da sei già da sei da da sei anni più o meno come tutte le canzoni e poi c'è domenico domenico di pietro eccoci di nuovo insieme bentornata l'eredità eleonora è una delle nostre quattro nuove professoresse ed è stata la prima appunto avere l'onore di fare la scossa di cosa parliamo questa sera stasera parliamo di rimedi dopo aver alzato il gomito rimedi dopo aver alzato il va bene andiamo vai andiamo andiamo grazie grazie ovvero ludovica francesca poi dall'altra parte eleonora e laura brava ragazze potete andare in postazione grazie